Papa Francesco ha aperto il suo account su Instagram e il social network su cui si possono condividere foto e immagini. Il nome dell'account papale è Franciscus e le riproduzioni sono quelle del servizio fotografico dell'osservatore romano. Lanciando un tweet il pontefice ha annunciato di iniziare così un nuovo cammino per percorrere la via della misericordia e della tenerezza di Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.